ciao amici vi lascio entrare con calma ciao a tutti buonasera sono le otto ciao amici ciao come state cosa fate di bello ciao ciao jessica ciao sofia ciao ciao miliana ciao a tutti sto cercando casa perché per lavoro ragazzi non posso più fare altrimenti devo per forza trasferirmi a milano e comunque mi serve un appoggio a milano e quindi sto cercando casa ma la sto cercando da un bel po da diverse settimane forse oramai e oggi dovevo in realtà ieri ero un po triste perché avevo questa impressione che oggi sarebbe andata male le mie impressioni sono sempre giuste ragazzi non so come mai è una cosa pazzesca e quindi oggi non è andata bene diciamo la casa non c'è quindi ero quasi convinta il 100% di aver trovato casa e invece no perché ovviamente mai una gioia nella vita yeah che bello bellissimo stupendo comunque ciao a tutti melanzane per tutti intanto sì ho pensato a dividere la casa con con una coinquilina e infatti io e un'altra ragazza la stiamo cercando quindi sto cercando in realtà un appartamento per due persone con due camere da letto ciao 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 hashtag mai una gioia nella vita proprio mai una gioia nella vita e poi ve lo dice una persona che io sono giochissima giochissima proprio e invece in questo periodo purtroppo no quindi sto veramente cercando vabbè oggi oh grazie tesoro ti sono mancate le mie live eccomi in realtà oggi ho girato tutto il giorno ho fatto uno shooting enorme lunghissimo sono stanca morta ciao arianna e comunque nulla spero di trovare casa il prima possibile dove ho messo le melanzane che ti abbiamo regalato che ti hanno regalato anzi le ho qua e tant'è che ora appena finisco di fare la periscope faccio una un vlog un vloghino velocissimo sono tutte qui e per ringraziarvi perché appunto lo metterò poi nel prossimo vlog vedete guardate quante melanzane una melanzane due melanzane no ma la più bella di tutti rimane sempre questa che poverine si stanno tutte cosando le foto mi dispiace un sacco era piena di foto mie di michele che carine comunque insomma poi devo farci un piccolo vlog appena che le metto dentro perché in realtà io adesso sono a casa di potta sto aspettando lei mangiamo assieme stasera dormo da lei perciò non voglio che trovi incasinata la stanza un bigliela di sistemo io sono una brava bambina sotto questo punto di vista non voglio dare fastidio alle persone come mai cerchi casa perché ragazzi io sono per lavoro sono sempre a milano fissa 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 milano e adesso c'ho dei lavori da fare tra cui anche x factor spero che mi seguirete un sacco per x factor e devo essere a milano cioè sono milano sempre devo avere comunque un appoggio a milano e quindi per forza per forza proprio lo devo fare e sto cercando questo appartamento perciò se qualcuno di voi ha i genitori nonni o cose del genere che a milano ha un appartamento con due camere da letto me lo faccio sapere giusto giuro che sono una brava ragazza ciao ciao tesori ciao 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 aiuto non vedo più niente se non bloccare tutti il zonghiozzo ti era passato yeah lo sapevo sono toscana sì sono di lucca come si partecipa il pubblico di x factor dovete non so se comprare i biglietti su ticket one una cosa del genere ciao 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 e vabbè basta niente ragazzi quindi diciamo che è un periodo un po' strano è un po' difficile questo qui io sono di firenze oh beh perfetto allora siamo molto 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 vicini e vi voglio vedere anche questo vestitino che è tanto carino a me piace un sacco guardate che carino che è aspettate ve lo faccio vedere mi piace? mi piace? è strano tipo è fatto in due parti mi piace un sacco è carino vedete? vabbè basta ma datemi positività tantissima positività vi prego ragazzi ma io ve lo giuro appena trovo casa io torno la super gioiosa che ero prima tantissimo però purtroppo adesso è un po' un periodo così grazie mi piace tantissimo è carino sì certo come no guarda questi qui vedi come si bloccano in fretta queste gente blocchiamo basta ragazzi il 10 viene a milano ma dai non ho ancora mangiato niente sto aspettando potta appena arriva potta vediamo cosa mangiamo basta ragazzi continuo a cercare case ci sentiamo più tardi magari ti mando un sacco un sacco un sacco un sacco un sacco di budget che stai guardando questa live ci vediamo prestissimo ciao buona serata ciao 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 ciao